Correte, mia figlia non sta bene. La chiamata disperata della mamma al 118, la corsa dell'ambulanza partita da Porto Gruaro, ma per Monica Fraulin, 26enne di Caorle, non c'è stato nulla da fare. Negli ultimi giorni la febbre a 40 poi passata, ma all'alba di giovedì il malore fatale, nell'abitazione in cui Monica viveva con la mamma a Castello di Brussa. Quando i sanitari sono giunti sul posto, Monica aveva già perso conoscenza. Inutile ogni tentativo di rianimarla, il suo cuore ha smesso di battere. La salma è stata trasferita in cimitero in attesa del funerale che con ogni probabilità sarà celebrato nella chiesa di Castello. È qui che Monica, nata a Udine, ha sempre vissuto con la mamma e il papà Bruno, mancato due anni fa. Dopo la sua scomparsa, la malattia, per cui la 26enne era stata operata alla testa. Le cose sembravano andare bene, poi la ricaduta che non le ha lasciato scampo.